Non mollare mai, chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Per avere qualcosa che non hai mai avuto, devi essere disposto a fare qualcosa che non hai mai fatto. Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale, ciò che conta è il coraggio di andare avanti. Non temere, accogli l'ignoto e quanto altro ti recherà l'evento. Abolisci ogni divieto, procedi sicuro e libero, non avere mai sollecitudine se non di vivere. Il tuo fatto non potrà compiersi se non nella profusione della vita. Se l'anima tua è ambiziosa ad onori e l'orecchio tuo si compiace delle lodi, alzati dalla polvere di cui sei composto e solleva i tuoi desideri a qualche cosa che di pregio sia degna. La quercia che spande i rami verso il cielo non fu che una piccola ghianda nella polvere. Non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti potuto essere. Se ti seduce un lumicino seguilo, ti conduce nella palude. Certo tu ne esci, ma se non lo segui, per tutta la vita ti martoria il pensiero che esso fosse e poteva essere. Oggi non è che un altro giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi. Il più grande errore che puoi fare nella vita è quello di aver paura di farne uno. Se Dio avesse voluto che l'uomo indietreggiasse, gli avrebbe messo un occhio dietro la testa. Noi guardiamo sempre dalla parte dell'alba. Nella vita di un uomo prima o poi, arriva un giorno in cui, per andare dove deve andare, se non ci sono porte né finestre, gli tocca sfondare la parete. A volte ciò di cui ha bisogno sono 20 secondi di coraggio folle, letteralmente 20 secondi di audacia e imbarazzante, e ti assicuro che ne verrà fuori qualcosa di grande. Mai tornare indietro, neanche per prendere la rincorsa. Non abbiate mai paura dell'ombra, è lì che vicino da qualche parte c'è la luce che illumina. Mai rifiutare un invito, mai scartare a priori quello che non conosci, mai mancare di cortesia e mai trattenersi più del necessario. Tenete la mente aperta, fatevi succhiare dall'esperienza vissuta e se fa male, ne valsa comunque la pena. Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso. Essere pronto è molto, sapere attendere è meglio, ma sfruttare il momento è tutto. Le persone che si lamentano del proprio stato, danno sempre la colpa alle circostanze. Le persone che vanno avanti in questo mondo sono quelle che si danno da fare e cercano le circostanze che vogliono e se non riescono a trovarle, le creano. Non seguire il sentiero già segnato. Va invece dove non vi è alcun sentiero e lascia una traccia. Non esiste circostanza, né destino né fato, che possa ostacolare la ferma risolutezza di un animo determinato. Non lasciare che ciò che non puoi fare interferisca con ciò che puoi fare. Le vere decisioni si misurano con l'intraprendere nuove azioni. Se non agisci non hai veramente deciso. Il successo è cadere nove volte e rialzarsi dieci. Posso accettare di fallire chiunque fallisce in qualcosa, ma io non posso accettare di non tentare. Oggi prendi una decisione che è sempre rimandato e domani fa la stessa cosa. Allenerai il muscolo che potrà aiutarti a cambiare la tua intera vita. Il segreto del successo è imparare a usare il piacere e il dolore, invece che è lasciarsi usare dal piacere e dal dolore. Se ci riuscirete avete raggiunto il controllo della vostra vita, altrimenti sarà la vita a essere vostra. Faber es suachiske fortune. Continuamente, vivere senza ricordo e senza rimpianto. Da, la, 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 la. Senza rimpianto. Da, la, la, la. Senza rimpianto. Da, la, la, la. Senza rimpianto. Se ti potessi dire...